Buonasera, benvenute e benvenuti a questo incontro della rassegna Desiderare il mondo organizzato dal circolo dei lettori. Io sono Maura Gancitano e ho il grande piacere oggi di intervistare il professor Sharon Molem, un grandissimo genetista, uno dei più grandi esperti mondiali di biotecnologie e neurogenetica e saremo aiutati appunto in questo percorso, in questa conversazione dalla traduttrice Sara Cominetti. Oggi parliamo di un libro che è uscito da poco in Italia del professore che si chiama La metà migliore, la scienza che spiega la superiorità genetica delle donne pubblicato da UTET. Qui guardate anche i miei appunti e soprattutto ho calcolato che il 20% del libro consiste nelle fonti alla fine appunto del testo, proprio perché la tesi di questo libro è una tesi particolare, una tesi che si pone in discontinuità rispetto a tutto quello che ci hanno detto negli ultimi secoli, in particolare che ci hanno detto la scienza e la medicina, alla ricerca medica, rispetto alla genetica, ai cromosomi, ma soprattutto ai cromosomi sessuali. Quindi il professor Molem sostiene che il cromosoma X, che è sempre stato considerato un cromosoma diciamo più debole e inferiore, che causava tantissimi disturbi, in realtà il fatto che le donne abbiano due cromosomi X, in qualche modo dimostra la loro superiorità genetica e questa è una tesi, il fatto che le donne abbiano un patrimonio genetico superiore e più forte rispetto a quello degli uomini che un po' fa strabuzzare gli occhi perché ci sovverte completamente l'idea che ci siamo fatti del mondo sulla base delle ricerche scientifiche appunto degli ultimi secoli. Quindi io chiedo innanzitutto al professore di spiegarci da dove nasce la sua ricerca e appunto qual è in realtà la verità scientifica fino ad oggi, quindi quali sono le caratteristiche di maschi e femmine, quindi non tanto di genere quanto di cromosomi sessuali e quindi come possiamo imparare a rivedere le nostre idee su cromosomi X e Y. Grazie mille per aver guardato il nostro corso. training, my graduate school training, where I was just always told that, of course, men are physically stronger, men have more greater muscle mass. And, you know, the reason that as a physician, we should expect to see in, you know, my future profession, more female patients is because females are the weaker sex. And, you know, women do go to the doctor more often, you know, they do keep appointments, etc. So, you know, that appears to be the case, especially if we're looking at physical strength, men are undeniably stronger. And yet everything I saw as a physician and a geneticist went against the idea of biological strength. And it was really when I was working with very young children in the neonatal intensive care unit. And, you know, I would be treating babies, a boy and a girl that were born with very similar, you know, critical conditions. And I'd have to really understand why were the boys not doing well? Why were so many more boys dying? Why were so many young boys struggling where female girls, all things being equal, were doing so much better? It can't be behavior. Of course, you know, when they're that young, you can't say, you know, that men, it's because of behavior. I was taught when when you look at older individuals, men smoke more, they drink more, they take many more risks, they don't go to their doctor so often. And that was the reasons that I was told in my training that males are much more fragile. But again, coming back when, when I was looking at these young babies, it was that the girls that were doing so much better, and I didn't have an explanation. And so it was really when I went back to looking at it from the genetics perspective, from the biological perspective, I said, what is it that is giving girls and females so much more resiliency, so much such a such greater ability to overcome biological challenges throughout their entire lives. So it, you know, when we start out, you know, at a very young age, more girls make it to their first birthday than boys everywhere around the world. Even in places where girls are not favored, where, you know, boys are favored, boys are given more food and more care. And then when you look at the far end of life, why is it that 95% of women at the age of people at the age of 110 and over are all women and female 95%. And so it can't be behavior. And when I went back to looking at it from a genetics perspective, I said, what are the fundamental differences? Like, I wanted to step back and break it down. I said, you know, what are the fundamental differences between the sexes and the fundamental differences from a genetics perspective is chromosomal sex. And so when we look at the differences between a man and a woman, it really comes down to the fact that I as a man have only one X chromosome in all my cells. And that gives me about 1000 genes that are all identical. And every woman has two Xs. So for every X that gene that I may have, that's not working well, a woman has another X that she can use. So that means if humans have 20,000 genes, women have 1000 extra genes than men. And these genes, it's not just the number of genes, although that's significant, it's the fact that these are the genes that encode how to build a brain, how to maintain a brain, how to build an immune system, how to fight infections. And so slowly, I started piecing together all of these, you know, evidence, the pieces of information and research is starting to build the case that the reason that women are actually stronger than men biologically has to do with the fact that they've inherited two X chromosomes and men have only inherited one. All right, innanzitutto grazie mille per avermi invitato, un piacere essere qui con voi oggi. Tutto è cominciato per me quando ho cominciato a studiare, quando ero ancora uno studente di medicina, mi stavo specializzando, insomma mi è stato detto preparati perché appunto ci saranno delle differenze, vedrai che tra i tuoi pazienti ci saranno delle differenze, si tende a pensare che gli uomini ovviamente siano più forti perché sono effettivamente più forti fisicamente, hanno una maggiore massa muscolare e come medico quindi ti devi preparare ad esempio al fatto di vedere più donne pazienti che uomini pazienti, perché? Perché le donne si ritengono più deboli, perché le donne prendono un appuntamento dal medico quando hanno bisogno di vedere il medico e poi ci vanno a questo appuntamento e tutto questo sicuramente era vero, però se dal punto di vista fisico, proprio fisiologico, gli uomini sono più forti, hanno una maggiore forza fisica, dal punto di vista biologico però la differenza, la forza biologica era diversa tra uomini e donne ed è una cosa di cui mi sono reso conto subito quando ho cominciato soprattutto a lavorare nella terapia intensiva neonatale in cui ho lavorato per un certo periodo e mi sono reso conto che vedevo questi bambini, questi bambini a volte nati anche prematuri e c'era una differenza tra il comportamento come dire l'andamento poi del clinico proprio dei bambini maschi rispetto alle bambine femmine. Molto spesso i bambini maschi che nascevano prematuri non ce la facevano mentre invece le bambine femmine che nascevano appunto premature riuscivano come dire avevano una performance migliore e io mi sono detto beh però non potete dirmi che questo è dovuto al comportamento perché spesso si dice sì però gli uomini sono più a rischio a causa del loro comportamento, non è così se parli ovviamente di neonati, sono troppo giovani in quei bambini per essere come dire vittime di fumo, di comportamenti a rischio come possono fare gli uomini, ecco questi sono poi i discorsi che fai quando parli degli uomini perché muoiono prima gli uomini delle donne perché hanno dei comportamenti più a rischio e no non è affatto così la mia conclusione è stata che basandomi su quello che vedevo con i neonati i bambini in realtà maschi erano più fragili e le bambine e le femmine si dimostravano più resistenti e allora mi sono detto deve esserci una spiegazione per tutto questo e ho provato ad affrontare la questione dal punto di vista biologico e genetico, volevo capire perché le femmine e le bambine in questo caso erano più resilienti perché poi nell'arco della loro vita le donne riuscivano a superare una serie di difficoltà dal punto di vista biologico meglio di quanto non facciano gli uomini. Pensiamo ad esempio che anche a livello mondiale il numero di bambini che arriva al primo anno di vita e comunque quando si trovano appunto in questi reparti di terapia intensiva neonatale sono sempre di più le bambine rispetto ai bambini e di nuovo e anche a livello mondiale nonostante il fatto che in alcune culture i bambini maschi ricevano maggiore attenzione rispetto alle bambine e femmine, le femmine comunque si dimostrano più resistenti. Ricordiamoci anche che il 95% delle persone che oltre i 110 anni su questa terra sono donne ecco per cui anche qui non può essere solo dovuto al comportamento mi sono detto io ho cercato di studiare quindi la questione dal punto di vista genetico mi sono detto qual è la differenza genetica tra uomini e donne deve esserci qualcosa mi sono chiesto e mi sono appunto reso conto che c'era una differenza che ovviamente conosciamo tutti ma che secondo me era fondamentale cioè il fatto della presenza di uno o due cromosomi X perché come saprete appunto gli uomini hanno un cromosoma X e uno Y le donne hanno due cromosomi X e questo cosa vuol dire? Vuol dire che le donne hanno in sostanza il doppio delle possibilità di ad esempio combattere contro certi attacchi esterni che ci arrivano proprio in virtù del fatto che gli uomini hanno una sola X mentre le donne ne hanno due e quando per semplificare molto ovviamente una di queste non so di queste di questi mille geni che gli uomini hanno rispetto ai 2000 che hanno invece le donne che arrivano appunto da questa doppia X beh questo vuol dire che le donne hanno il doppio delle possibilità di riuscire a avere la meglio e nel caso ad esempio di un'infezione e a che cosa servono questi geni? Beh il cromosoma X ha a che fare con dei geni che ci che si occupano del cervello aiutano a costruire il cervello aiutano anche a sviluppare il sistema immunitario e questo ovviamente poi si riflette sul come si reagisce a certe malattie ad esempio quindi lentamente ho cominciato ad interessarmi alla questione a trovare sempre più a fare ricerca per l'appunto a studiare a raccogliere prove evidenze scientifiche del fatto che appunto la forza biologica delle donne è dovuta maggiore rispetto a quella degli uomini è dovuta proprio a questo cioè il fatto di avere due cromosomi X rispetto a uno solo come gli uomini. Grazie e appunto una cosa che lei sottolinea non solo nel libro ho ascoltato anche delle interviste appunto in cui sottolinea proprio un pregiudizio culturale che ci ha fatto credere per molto tempo che gli uomini fossero più forti naturalmente e più preparati sotto tutti i punti di vista per affrontare gli attacchi esterni e tutto questo ha portato a una ricerca scientifica che molto spesso centrata sul corpo maschile e che per esempio nella raccolta di dati non ci offre dati disaggregati cioè dati che ci aiutano a capire come lo stesso dosaggio di un vaccino o di una medicina può portare risposte differenti e coperture diciamo differenti o l'incidenza appunto di certi disturbi questo è proprio un pregiudizio culturale poi le chiederò ovviamente so già che si è espresso su questo ma le chiederò anch'io qualcosa rispetto alla pandemia perché ovviamente anche qui ci sono tantissime tantissime scuole di pensiero e pochi però dati ma facendo un discorso invece più generico proprio sulla cultura che poi porta ad avere i finanziamenti per le ricerche scientifiche a fare ricerche scientifica c'è un cambiamento rispetto agli anni passati sta avvenendo una rivoluzione che lei e altre persone attraverso i propri libri stanno spingendo oppure ancora ci sono tante resistenze quindi ancora per esempio di fronte a certi disturbi di vario genere abbiamo solo dati su come dire abbiamo solo una casistica legata ai corpi maschili grazie a tutti 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 grazie a tutti